Sottosegretario, alle sue spalle la devastazione, adesso con i suoi occhi ha visto e si è reso conto effettivamente di quello che il popolo veneto sta patendo. Una prima impressione quindi? Ma innanzitutto sconvolgente, la forza che c'è stata del vento, del tornado è stata sicuramente fuori da qualsiasi previsione, anche mi dicevano i vigili del fuoco, fenomeno raro. D'altra parte, ahimè, si vede qui attorno lo stato di devastazione. La prima pensiera va alla vittima e ai feriti, ma anche alle comunità. Un grande ringraziamento ai sindaci che stanno facendo un lavoro egregio e il governo è vicino ed è presente, sono venuto apposta stamattina a una riunione per poter decidere assieme a loro come intervenire subito, ma anche in prospettiva. I suoi occhi appunto sono quelli di Renzi oggi, che cosa riferirà? Guardi, ahimè, le immagini le avevamo avute nei giorni scorsi, ma vederle di persona è sempre un effetto di emozione negativa. Poi io sono anche veneto di queste terre, quindi partecipo anche emotivamente. Non c'è dubbio che riferirò con tutta la lucidità, ma anche la passione, questa situazione difficile e drammatica. Bisogna dare una mano a questo popolo laboriosissimo. Abbiamo già visto gli effetti della capacità della gente, perché sono passati pochi giorni. Quello che io vedo oggi è una parte di quello che era stato la settimana scorsa. Interventi personali, volontariato, famiglie hanno già messo uno stato di pulizia impressionante. Va riconosciuto da tutto il Paese questa capacità. Grazie.